Con le temperature di Perugia da bollino rosso, tutti in casa siamo con ventilatori e, per chi lì ha, condizionatori accesi al massimo. Ecco che allora il periodo estivo può riservare a mare sorprese nella bolletta dell'energia elettrica certamente a incidere sul conto. Può essere anche una tariffa di consumi inadeguata, o la classe energetica di alcuni elettrodomestici che abbiamo in casa, non propriamente. Pensata per il risparmio energetico. Ecco allora alcuni consigli su come rimediare, evitando di ricevere bollette salate e godendosi l'estate in tranquillità. Condizionatore. Con il caldo e le temperature alte tipiche dell'estate, i climatizzatori diventano l'unica salvezza per sopravvivere all'affa di questo periodo. Ma il refrigerio può incidere notevolmente sulle bollette. Se vogliamo continuare ad usare i condizionatori senza avere costi eccessivi, basta sfruttarli nel modo corretto e si può ottenere un risparmio pari al 75%. Quindi meglio accenderlo quando davvero serve, con uno scarto di temperatura tra interno ed esterno pari ad 8 gradi. Inoltre, meglio usare la funzione deumidificatore e usare anche il ventilatore. Per risparmiare meglio provvedere alla pulizia e cambiare spesso i filtri. Importante è evitare di ostruire le bocchette dell'aria con oggetti che limitano il passaggio dell'aria. Molti condizionatori hanno sensori di rilevamento della temperatura, per questo meglio tenere distanti elettrodomestici che da accesi. Generano molto calore, come PC o televisori. Se dovete acquistare un nuovo condizionatore, meglio scegliere quello con tecnologia inverter, che adatta il funzionamento in base alla reale necessità della stanza, riducendo così l'emissione di Co2. Oltre agli apparecchi elettrici, la temperatura in casa può essere tenuta sotto controllo con piccole accortezze, che ne limitano il funzionamento. Ad esempio meglio usare tende bianche per l'esterno che riflettono la luce, mentre per quella interna meglio colori scuri che impediscono il passaggio dei raggi solari. In alternativa si possono tenere le serrande chiuse. Scegliere la tariffa giusta. Negli ultimi anni l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, AXI, ha generato una riforma delle tariffe. Questo comporta che alcune famiglie hanno ancora contratti vecchi, non più adatti alle proprie esigenze. Avere una tariffa sbagliata può comportare costi eccessivi in bolletta, soprattutto se si usano molto gli elettrodomestici, ma sì, ha ancora la tariffa standard. Mentre l'opzione Bioraria propone prezzi diversi a seconda delle fasce orarie e dei giorni della settimana, quella monoraria è ideale. Se si usano sempre gli elettrodomestici o non si riesce a spostare il loro utilizzo dopo le 7 o nei fine settimana, con questa tariffa pagherete un prezzo costante tutto il giorno. Va anche considerato che alcune categorie di persone e in particolare le famiglie con figli a carico, hanno diritto ad alcune agevolazioni, come il bonus energetico e elettrodomestici non efficienti. Gli elettrodomestici sono ormai indispensabili nella vita quotidiana, anche chi li usano poco, non può fare a meno di averne almeno uno a casa. Se siamo tra quelli che non hanno molti apparecchi elettrici, ma hanno costi in bolletta alti, probabilmente è perché i nostri dispositivi non funzionano bene o appartengono a classi energetiche alte. Oltre al condizionatore, il principale responsabile del consumo energetico è il frigorifero, perché è sempre acceso. Per questo motivo bisogna sostituire quelli di classe C o B, con quelli A più o con i più moderni appartenenti alla fascia A più un altro. Modo per risparmiare è l'utilizzo delle lampadine a LED. Queste oltre a consumare poco rispetto a quelle tradizionali, non generano calore e quindi non alzano la temperatura negli ambienti. Infine, non lasciare gli elettrodomestici in stand-by, perché anche se la TV ci sembra spenta in realtà sta consumando energia. Chi vende impianti di condizionamento a Perugia, Bardani SRL via Giuseppe Sacconi, 22, 06132 Perugia PGTEL 075-527-0540 web, www. Impianti termici Bardani. It Cama Service SRL Perugia via Amilcare Ponchielli, 8, 06073 Perugia PGTEL 075-529-3649 web, www. Cama Service It Cama Service It Cama Service SRL via Val di Rocco, 14, 06134 Perugia PGTEL 075-529-3120 web, www. Ed il Cama Service It Cama Service Via Teano, 50, 06129 Perugia PGTEL 895-959-5909 web, www. Termo Service Net Clima System SRL via Raffaele Silvestrini, 6, 06129 Perugia PGTEL 075-540-912 web, Clima Sistemsel, Mieidi. It, V virgola barra Clima Sistemsel Morelli Spa via Giuseppe Sacconi, 35, 06132 Perugia PGTEL 075-527-0587 web, www. Morelli Spa. Come STP SRL Impianti di climatizzazione Mitsubishi Eletriche Riscaldamento via Pivaiola, KM 5, 06132 Perugia PGTEL web, www. Stop climatizzazione. It Clima Control S&C via Orazio Tramontani, 15, 06135 Perugia PGTEL 075-395-523 web, www. Clima Control S&C. It Elettrotermica SRL via Guido Rossa 19, 06132 Perugia PGTEL 075-527-1942 web, www. Riello. It.